marci ho già iniziato no 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 aspetta con calma volevo spiegarti un attimo siamo in un simulatore di buchi lo so bello bello simulatore di buchi e quale sarà la nostra sfida oggi a parte che già iniziato anche eri ha già iniziato ma va bene così come il buco è pieno vendere vendi vendi ma volevo dirti che abbiamo 8 minuti come esco da qua buddy vicino clicca vicino clicca vicino vicino c'è vicino vero come tasto e clicca quello allora non posso che posso mangiare più roba e io io posso ad esempio posso diventare tipo un milione come buco gigante infatti volevo dirti facciamo questa sfida dove abbiamo otto minuti per diventare un buco enorme perché tu non hai mai sognato di diventare un buco che mangia le cose ricordavo che ma perché eri a così tanto aspetta sono perché eri già cominciato quindi io posso cominciare col time io ho già iniziato ma perché posso diventare gigante alex ha imposto un timer di otto minuti annaggia guarda te a partire da ora ok abbiamo otto minuti per diventare un mega buco gigante devo fare l'aggiornamento vedi vendi vendi allora io devo fare l'aggiornamento e l'aggiornamento adesso tipo un botto di roba da spendere io posso no come bui ma tu quanto puoi diventare grosso io un milione no io no purtroppo oh loro ho vinto io ho 1200 dai buddy ah ti sta bene ti sta ma come ti sta bene ah ah ti sta bene quindi ho vinto io eh oggi ho vinto io ci sta ci beh ci sta per una volta posso vincere io scusami eh non lo so allora io sto già mangiando gli alberi tu come sei messo ok eh si no vabbè intanto ti ricordo che se non sei iscritto iscriviti al canale prima cosa perché tu non sei mai iscritto ai miei canali quindi va bene così hai ragione hai ragione allora così ecco io no cosa stai facendo cosa stai comprando non comprare il buco nero eh assolutamente no il buco nero rompe tutta la mappa ti prego no ti prego dai non farlo continua con i 400 robux ma come ma dai ma fai schifo sei peggio di me sei ma tu non mi hai mai visto fare video di roblox certo che t'ho visto però sei uno sciopone peggio di me io tra un poco mi mangio i palazzi io ti dico che il timer sta andando eh si ma vai tranquillissimo non ti preoccupi guarda sto pure rubando le robe aeri per non farla crescere giusto così ci sta ci sta mi sembra più che giusto guardate che bello ok 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 è rientrato anche meno male intanto cosa stai facendo marci quando fischietti tu fai sempre cose brutte io si tu proprio tu guarda assolutamente no non dirlo mai eh no non ti devi più permettere di dire una cosa ok va bene va bene intanto io ti ricordo che sono primo c'ho 21.000 eh si tranquillo adesso mi mangio i palazzi eh eh anch'io adesso mangio i palazzi vediamo come la mettiamo qua adesso devo crescere proprio io in fretta io in fretta dobbiamo farlo ma dove sei ma dove sei scusa veniamo vicini che noi non ci guardiamo così ti rubo i palazzi no eh marci marci il tuo silenzio è come quando fischietti è ancora peggio quello marci ok ora posso prendere un batto di roba ok scusa io quanto sei vabbè ma sei a 68 ho vinto raga è palese che ho vinto oramai dai arrenditi dichiara qua la tua sconfitta perché ho vinto tra poco mi posso mangiare i palazzi dai baddi veloce Alexa quanto manca al timer al tuo timer da 8 minuti restano 5 minuti e 40 secondi mi chiedere hai 5 minuti per mangiarti i palazzi dove sei eh palazzi non ci arrivo ancora mi sei passato sopra due secondi fa baddi eh non t'ho visto ho visto talmente grosso che oramai ho vinto ho vinto però mi sto mangiando cose troppo piccole mannaggia devo mangiare robe più grosse cioè tipo ma tu la mattina non ti sogni cioè tipo che bello ti alzi sei un buco che mangia cose dai sono solo 3.000 aiuto dai hai 5 minuti per farcela io credo in te io credo in te ce la puoi fare ce la puoi fare qua c'è un botto di roba da prendere si eh ma perché poi vai piano stai attento che poi vai piano non è una cosa molto molto worth da fare ecco ma io non riesco a mangiare i palazzi ancora è un problema questo non si può ingrandire pagando? si in teoria si no non si può purtroppo non si può marci sto per inghiottire un palazzo anche se sembra un si è incastrato ok l'ho mangiato ci sono il primo palazzo è andato raga il primo palazzo è andato quindi stiamo per vincere stiamo per vincere come non ce la fai dai che ce la fai io lo so che tu magicamente adesso diventerai gigante e no è proprio qua che ti sbagli è proprio qua che mi sbaglio guarda io sono al palazzo ok ho mangiato un mercato tipo buono ok questo è un palazzo da 3 p oh si che bello una palestra io odio le palestre mangiamo le palestre guarda quanti punti sta facendo aspetta che sto mangiando un palazzo gigante e no è caduto male non riesco a mangiarlo mannaggina mannaggina palazzo di 5 piani neanche quello sei ingastrato mannaggia ok ok tu quanto sei come sempre eh ma ho vinto ho vinto ragazzuoli ho vinto che bello ok ho mangiato buono buono mi sto portando via no quindi sei che tu è arrivato a mangiare i palazzi eh ma non entro come non entri eh no si devi aspettare un anno devi muoverlo un pochino devi farlo sentire più confident allora si no dai adesso mi sta recuperando lo sapevo io ma non è vero guarda quanto sto sono ancora 24.000 io magicamente so che cosa farai tu adesso cosa non faccio niente si vedremo ti giuro che non posso fare proprio niente vatti ma non puoi fare niente non puoi fare niente adesso vediamo adesso vediamo ok va bene ok ai marci dai veloci sto mangiando altri palazzi però vedo che ma com'è fatta ad arrivare a 100.000 scusami cioè io mi sono girato un secondo e siamo arrivati a 100.000 il problema è che adesso è tutto bug ok ci ho fatta bravo si guarda quanti ne sto prendendo no 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 dai che poi mi supera mannaggia io sono quasi al mio massimo eh quindi non so quanto manca alexa quanto manca al timer scusami alexa quanto manca al timer al tuo timer da 3 minuti restano 2 minuti e 30 secondi oh hai 2 minuti e 30 veloce quanto vabbè dai raga ho vinto 836 poi la gente qui ha sbagliato che qualcuno ha venduto ha venduto non doveva vendere perché sennò si perde questa sfida eh già eh 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 sì sì beh io in 2 minuti e 30 ma dai marquis non mi può arrivare secondo eh vabbè dai ho 325 e li butti no dai e beh io guarda c'ho un milione e 112 100 voglio diventare il buco più grosso di tutto il server anche se siamo in 4 però va bene così sarò comunque il buco più grosso di tutti ok perché io tutti i palazzi anche tu immagino si adesso aspetta che mi mangio ma quanto hai scioppato per arrivare un milione ma non ho scioppato è questo problema vabbè forse qualche pochino vabbè qualcosa vabbè eh non è una cosa che dobbiamo star lì a sindacare tanto io volevo vincere questa sfida a tutti i costi sai benissimo che per vincere bisogna usare anche eh cose particolari tipo tanti robux bello il palazzo da 42 mila no buddy non me li rubare no questi qua non me li rubare dai dai vieni a prenderti palazzo aspetta che mi mangio il cinema oh 59 mila vieni qua dai abbracciamoci ma perchè sei pure più veloce di me scusa ehm no il buco è pieno vabbè io rimango qua così ok ma ecco perchè che cosa ho vinto perchè c'ho fatto tutto l'ho fatto tutto eh com'è perdere in questo modo eh lo vedi ciao me li sto prendo io queste qua eh lo so io sono pieno quindi a meno che tu non superi 1.645.000 sono pieno ah ho vinto quindi ancora prima della fine del timer mancano 45 secondi comunque 42 41 40 dai levati ma perchè sei così lento scusami non ho scioppato sai com'è ma non evita allora prima ho sentito che tu hai scardato un pochino ho scioppato per arrivare un milione si però non ci sta arrivando a quanto pare eh ti stanno battendo tutti ma poi perchè alcuni palazzi non riesci prendere perchè sei sopra di me tu è colpa tua ah beh adesso è sempre colpa mia non so va me ne vado ti guardo e me ne vado va bene va bene il cinema come lo posso permettere beh mi sembra giusto comunque hai 10 secondi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 dai luco questo l'ultimo eh mi dispiace ha suonato smetti di mangiare smetti di mangiare guarda che sta parando pure no non sto parando ho perso dai lo so già con te hai perso va bene vendita vendere aspetta che vendo anch'io perchè sono alexa stop alexa stop alexa stop ok scusami me la prendo un po' troppo con alexa vedi c'era anche da aggiornare la velocità oh ho venduto ho preso 300.000 vieni qua di fianco che almeno facciamo la chiusura dal buco marci e dal buco buddy è tutto fammi tu per favore la chiusura ciao a tutti quando sono veloce adesso eh sei un razzo sai vabbè ma adesso fa ma non lo sapevo eh ho vinto ciao ciao ciao